Attiva da oggi la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età. Da oggi in pratica è possibile registarsi sulla piattaforma online di Soresa, così come da oggi in Campania è possibile scaricare online il certificato di vaccinazione anti-covid e conoscere il lotto. La regione tramite la Soresa, la società partecipata che si occupa degli appalti della sanità pubblica, ha attivato la piattaforma online per il recupero dell'attestato di vaccinazione anti-coronavirus. Evitiamo psicosi, non c'è motivo per essere angosciati, ci sono state ricadute che vanno verificate. Sono milioni in Europa le persone vaccinate con AstraZeneca, così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che allo stesso tempo dopo i recenti fatti sul vaccino AstraZeneca rilasciando alcune dichiarazioni ha voluto lanciare un messaggio alla popolazione campana. L'obiettivo è quello di porre fine al calvario del 2021, ad oggi 173 mila persone hanno ricevuto due dosi. Se andiamo avanti con questi ritmi noi in dieci mesi arriviamo a vaccinare non più di 70 mila persone e intendo entrambe le dosi. Stiamo lavorando per forricci di altri vaccini, ha detto, ci dicono che dovrebbero arrivare alcuni milioni di dosi per aprile, maggio e giugno. Se vediamo se arriva Johnson & Johnson dobbiamo puntare anche all'approvvigionamento di un altro milione di dosi se vogliamo concludere questo calvario entro la fine di quest'anno. Chiederò aiuto al capo dello Stato affinché sia consegnata la quantità di vaccini proporzionata alla popolazione e chiederemo aiuto in merito al riparto del Fondo Sanitario Nazionale perché ci aiuti a cancellare uno scandalo nazionale, così il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Possiamo vantare perlomeno un risultato. Oggi abbiamo gli ospedali, e non è una piccola cosa, covid free, sicuri dal punto di vista del contagio. Non è una piccola cosa. Aver vaccinato praticamente tutto il personale medico, infermieristico e tutti quelli che in qualche misura frequentano gli ospedali. Questo perlomeno ci dà la garanzia di poter andare negli ospedali senza la paura di essere contagiati anche dal personale sanitario. Qual è l'obiettivo che abbiamo oggi? Oggi l'obiettivo che abbiamo noi in Campania perché dobbiamo dare pure una prospettiva di serenità ai nostri concittadini? È quello di porre fine a questo calvario per il 2021. Ho detto altre volte che avevamo programmato di poter arrivare nel mese di luglio ad avere almeno la città di Napoli tutta vaccinata. Come fatto simbolico, avevamo programmato un lavoro per avere Napoli come prima grande città d'Europa libera dal covid. Non ci sono arrivati i vaccini e dunque i tempi si sono allungati.